Ciao ragazze, allora un video brevissimo per mostrarvi solamente due acquisti ma ci tengo a mostrarveli perché appunto legate a questi due acquisti ci sono due informazioni che ho pensato potrebbero risultarvi utili insomma, interessanti cioè sono appena tornata a casa, li ho fatti oggi e quindi ve li mostro allora sono stata per caso in realtà da mango perché avevo del tempo vuoto e quindi ci sono passata e ho visto che c'erano i saldi di metà stagione, magari adesso lo sapete tutte, io l'ho scoperto solo passando davanti al negozio e praticamente appunto alcuni capi sono scontati ora non ho cercato perché vi ho detto che sono appena tornata a casa e mi sono fiondata subito a farvi il video non so fino a quando ci saranno questi saldi, magari cercate se vi può interessare se avete un mango vicino e allora appoggio qui la borsa, si non si vede, bene allora ho preso in realtà una cosa super basic ma allora l'ho presa per due motivi? mi ricordavo tre, vabbè allora un motivo è che era in sconto ovviamente e quindi non costava molto secondo motivo perché questo capo lo cerco tutti gli inverni e non lo trovo mai sto parlando di una cosa super semplice, tra l'altro c'è del filo vabbè, del filo qua se vedete e il bottone di ricambio comunque ho preso questo vestito che è super semplice tutto grigio che va giù dritto, arriva appena sopra il ginocchio e ha le maniche lunghe appunto, direte non trovi mai vestiti d'inverno, non è questo il punto ma non so perché, forse sono sfigata io ma li trovo sempre con le maniche a tre quarti e io li voglio a manica lunga e quindi l'ho visto e ho detto ok, insomma, devo prenderlo l'unica particolarità è che qua, sì forse si vede qui è tutto liscio, mentre qui ha delle costine sulle spalle un'altra cosa particolare è che sulla schiena, come vedete, ha questi bottoncini e anche qui è sempre a costine poi per il resto è molto semplice io l'ho provato, ho preso una S, anche se di solito io ho sempre la M però risulta molto largo anche sulla schiena, però penso sia fatto così quindi è molto comodo da mettere di giorno con i collant, coprenti e via anche la sera, cioè questo è fantastico, tipo un vestito da cibo perché non vi si vede la pancia se mangiate comunque vabbè, si chiama vestito Nikita e c'era anche in altri tipi, infatti subito avevo preso in mano quello grigio più chiaro con i pois, ce n'erano tipo due tipi di pois poi c'erano questi a tinta unita, nero, anche era carino però ho detto vabbè prendo questo che ci sta bene anche con i collant neri perché magari sto nero e collant neri comunque questo sta bene anche io, ce li ho a bordeaux anche verdi e blu e secondo me sta bene con tutti e tra e poi c'era anche con delle righe io ho preso questo e comunque tipo avevo guardato se questo c'era anche la M ho detto me lo porto in camerino ma la M non c'era più erano rimaste le S, delle L e le XS magari è un caso però le M sono quelle che vanno via spesso, velocemente comunque costava 29,99 e io l'ho pagato 19,99 è molto morbido, mediamente caldo, non è pesantissimo perché è molto sottile adesso volevo guardare con voi di cosa è fatto allora, made in china intanto woman, vabbè, fin lì viscosa, 54%, 38% poliammide 7% acrilico, 1% poliestere quindi puramente plastica morbida vabbè, va bene l'importante è che non punga che non sia di lana pungente vabbè, tanto cioè, in livello non è che sudo e dico, è la roba di plastica, puzzo e quindi, cioè, penso di essere forse l'unica che non aveva ancora un capo di vestito di vestiario di mango però mi piacciono le cose però costano un po' e in realtà l'unica cosa è un bracciale che avevo preso sempre in saldo e avevo il portafoglio prima di quello che ho adesso e era di mango in saldo comunque, vabbè, farò lo stesso prendo solo in saldo da mango ecco, quindi questa è la prima informazione che ci sono i saldi di mezza stagione passo alla seconda informazione che riguarda in realtà solamente alcune di voi che abitano a Mantua in provincia che è la mia città però non solo perché praticamente arrivo al punto aperto una nuova bioprofumeria che in realtà è abbastanza una novità per Mantua visto che è piccola queste cose così all'avanguardia ha aperto questa bioprofumeria vi dico subito anche come si chiama e dov'è è piccolina però sono andata oggi appunto a delle marche che solitamente si trovano solo online allora si chiama Naso Botanico Bioprofumeria ed è in Via Verdi 56 vi faccio vedere il logo che insomma per capirci Via Verdi è quella dove c'è l'IBS questo è il logo ecco il riflesso questo è il logo appunto ha delle marche come tipo Anabla Neve Cosmetics Eviofficina Toscana Maternatura Dottor Aushka poi ha anche una sezione di profumi di nicchia non ho guardato i prezzi però secondo me non costa un poco e hanno usato qualcosa buono molto particolare anche intenso e delle altre marche comunque se guardate c'è appunto questa pagina Facebook ma dicevo interessante magari non solo per chi di Mantova ma anche per altre persone perché appunto aprirà gli shop quindi si potrà ordinare appunto tutti questi brand anche altri che non avevo mai sentito comunque se andate a vedere ci sono e quindi non potevo non entrare anche perché faceva avrare continuato quindi sono andata e ho preso il mio primo prodotto di Biofficina Toscana e sono stragasata perché volevo provare questo e vorrei provare anche altre cose anche perché poi insomma non è che costino poco volevo anche prendere due ombretti di Nabla uno c'era un altro non l'ho visto infatti gli ho chiesto se c'erano tutti gli ombretti e ho detto no che dovevano arrivare non tutto era disponibile sul sito poi ci sono anche le palette quelle magnetiche insomma un po' di cosine in realtà il motivo potevo anche prendere l'altro cioè l'ombretto che c'era uno dei due ombretti che volevo c'era però in realtà dire la verità visto che ho preso il vestito che non era il programma non avevo più soldi e quindi cioè dovevo tenermi 20 euro per poi fare benzina quindi non li avevo nel portafoglio non volevo usare il banco comunque questi non ne frega niente ho preso il siero viso riequilibrante io non ho mai provato un siero in vita mia quindi sono curiosa e quando avevo visto questi che erano usciti mi avevano ispirato vabbè l'avrete visto tutti perché ormai è uscito da non so forse quest'estate ha la pompetta così che si pigia così e ha un odore forte tipo di cose balsamiche quelle da inverno e appunto mi ha detto due cose perché io appunto il siero non l'ho mai usato mi ha detto che si potrebbe usare anche in sostituzione della crema però magari più d'estate che d'inverno dove la pelle è comunque anche una pelle problematica perché questo appunto purificante per pelle grasse impure ha bisogno comunque di un minimo di idratazione quindi magari mescolarlo alla crema solita e quindi ho preso questo che adesso non so se sia il prezzo di listino comunque costa l'ho pagato 13,50 qui non si vede ecco 13,50 e poi mi ha dato speravo più di un camioncino però insomma già tanto che me ne abbia dato uno perché a certi posti non ne danno mi ha chiesto cosa mi interessava se mi interessava capelli corpo o viso forse mi ha chiesto gli ho detto capelli e mi ha chiesto la tipologia io gli ho detto che sono grassi e allora mi ha dato questo shampoo di maternatura al cisto per capelli grassi e con forfora questo che quindi proverò e poi vedrò anche se poi non so se ne prenderò una confezione perché maternatura costicchia non che l'officina toscana costi poco però alla fine ha più o meno un prezzo di una crema da farmacia che io uso normalmente quindi appunto questo oltre che per farvi vedere e per chiedervi consiglio se qualcuno l'ha provato ero un po' per dirvi di questo nuovo negozio e presto anche e-commerce perché io l'ho gasatissima quando l'ho visto ho detto si è fantastico però devo darmi un po' un contegno perché se andrò lì tutti i giovedì che ho pausa pranzo cioè sono a Mantova forse meglio di no però comunque sulla mia wishlist ci sono due ombretti di Nabla magari anche la palette magnetica e poi vorrei provare la matita per sopracciglia di quelle nuove che sono uscite e anche il balsamo magari qualcos'altro insomma meglio se mi fermo e comunque niente spero che vi abbia tenuto un briciolo di compagnia che vi sia stato un po' utile questo video e ciao